Guardate, il contratto è un testo a metà tra il libro dei sogni e quello degli orrori. E io direi che piuttosto di dire si fa la storia, come è stato detto, bisognerebbe avere l'umiltà di impararla la storia, per non riproporre vecchie logiche, per non riproporre vecchi errori. Ecco, cari Di Maio e Salvini, voi non arrivate dal futuro, voi state riportando l'Italia nel passato e noi non ve lo consentiremo, non ve lo consentiremo, altro che governo del cambiamento. Questa è la restaurazione.